Più che parlare in modo profondo della partita tra Cagliari e Inter vorrei analizzare la situazione scudetto retrocessione salvezza comunque fatto sta che l'Inter vince alla Sardegna Arena 1 a 3 difficoltà nel secondo tempo perché il Cagliari comunque se la stava giocando tutta per prendersi un posto salvezza ancora non tramortito ma si dovrà giocare tutto l'ultima giornata. In questo momento terzo ultimo a quota 29 a meno 2 dalla Salernitana che affronterà l'Udinese nell'ultima giornata mentre il Cagliari andrà in trasferta contro un Venezia già retrocesso ma che comunque ha fatto risultato con la Roma quindi questo è e comunque con un'unipatica vittoria della scuola veneta raggiungerebbe il Cagliari quindi anche questione d'onore una partita che potrà dirci tanto. E l'Inter se la giocherà col Milan situazione scudetto incredibile clamorosa si giocherà tutto all'ultima giornata con Inter Sampdoria che diciamo è già salva in una posizione di classifica calma. Per attenzione a sottovalutarla potrebbe fare scherzietti domani gioca contro la Fiorentina due partite difficilissime sulla carta e quindi vedremo cosa succederà. Fatto sta che però al Milan basterebbe un punto per vincere il campionato nonostante i sforzi dell'Inter che magari ha perso lo scudetto anche per l'errore di Radu contro il Bologna per delle prestazioni che nel 2022 hanno portato anche a risultati mancati. Tutta questa serie di cose hanno portato l'Inter a giocarsi lo scudetto all'ultima giornata poi ovviamente con i secondi ma non ci fai nulla. Il Milan comunque ha due risultati su tre e l'Inter ne ha solamente uno ovvero la vittoria. Allora oltre alle qualità tecniche in questa partita dovevi vincere di cuore entrambi ci hanno provato l'Inter ha avuto la meglio perché è più forte. Prendiamoci chiaro molti con l'annullati una screener al decimo minuto perché prende il palo di destra sul secondo palo poi la spinge in porta di mano e quindi ovviamente annullato dal VAR che ha avuto molto da interpretare. In questa partita ma l'Inter è stata molto più pulita sotto il punto di vista del gioco contro un Cagliari che comunque si è difeso ci ha provato in contropiede l'Inter sblocca nel primo tempo con Darmian con una grandissima azione manovratata dietro a partire da Samir poi si sbuca sul secondo palo con il grandissimo assist di Perisic servito da Celanoglu qui se ne va sulla fascia grandissima prateria la mette dentro lo spettacolare Perisic top player e poi il colpo di testa di Darmian che sblocca la partita. A palo dell'Inter con Lautaro che arriva davanti alla porta clamoroso e è successo di tutto si è girato poi va lì miracolo di Cragno che oggi ha tenuto comunque testa all'attacco dell'Inter ha salvato in diverse circostanze il Cagliari ma nel secondo tempo l'Inter continua con la sua superiorità a livello di gioco tecnico individuale quindi riesce a trovare anche il doppio vantaggio con Lautaro Martinez straripante quest'oggi veramente tanta tanta roba ne fa due. E con un grandissimo lancio di Barella Lautaro di forza se ne va su Alcare troppo più veloce devastante anche a livello fisico nonostante la statura non lo aiuti e fa il gol dello 0-2 mamma mia se ne sbaglio è arrivato a quota 21 in campionato perché poi segna l'ottantacinquesimo il gol del 1-3 che chiude la partita perché prima aveva accorciato il Cagliari con Ligo Giannis. Da fuori aria tiro potente di viazione leggera di Schiener Palorete che aveva messo un attimo il Cagliari per provare a riprendere la partita almeno con un pari ci ha provato in diverse circostanze. Andanovic comunque ha fatto belle parate un'alda fuori aria bella con la manuna di riflesso poi però è arrivato l'1-3 che ha chiuso tutti i sogni con Lautaro Martinez Palonetto parte tutto da Andanovic anche qui azione incontro vede manovrata e quindi con tutto di prima la sponda e va Lautaro che batte Cragno che fa una grande partita e fa anche un miracolo appunto sullo stesso Argentino. Noi ci vediamo alla prossima scudetto veramente da decidere ciao.